Buona sera, signore e signori! Buona sera, signore e signori! Vi ci vorrebbe essere una scuola in prima scelta. Ora stiamo facendo la scuola in prima scelta. Le scuole sono in qualche notte. Questa è la scuola in prima scelta. Ci siamo bloccati. Avevamo già la scuola in Sichut. Enjoy the show! What's your sentimental?